Oggi disegneremo una tartaruga kawaii, è anche molto semplice da disegnare. Iniziamo dal guscio che ha una forma semisferica, così. Facciamo le tramature della nostra tartaruga, ok? Facciamo la testa, che è quasi sferica. Gli occhioni che rendono kawaii questa tartaruga. Ma non so, va anche le linee che poi, ecco. Ricalco le linee principali col marker. Facciamo le zampe della nostra tartaruga, l'altra zampa che si intravede. Quest'altra zampa e la coda della nostra tartaruga. Ricalchiamo un po' le tramature sul guscio. Facciamo un po' di chiaroscuro delle zampette che si trovano all'altro lato. In questo modo diamo l'effetto e possiamo, l'effetto che si trova più indietro. Ed ecco la nostra tartaruga kawaii completata. La firmo e mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Se vi va, potete seguirmi anche su Instagram, su baldo.info. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!